Ci incontriamo per caso, per strada, sotto l'albero di Natale che chiaramente di giorno è spento, ma facciamo gli auguri alla città? Assolutamente sì, guardi, io ne approfitto per fare veramente gli auguri di un Santo Natale, di una serena festività, guardi, auguro alle famiglie che abbiano sicuramente la possibilità di ricongiungersi con i figli che sono fuori e di viverle veramente con serenità. Abbiamo bisogno di questo, qualcosa si sta già vedendo nell'aria, lo vediamo ogni sera quando nel centro città, ma anche nelle altre vie, la gente veramente le affolla. Quindi un messaggio di speranza voglio lanciare ai miei concittadini. Devono avere fiducia che la nostra città non è certamente ultima come indicano le classifiche e per migliorarla dobbiamo dare tutti noi un contributo. Quindi tanti auguri di buone feste a tutti.